Il Sant'Omaso non vuole farsi trovare impreparato per il prossimo difficile e atteso campionato di D. I grifoni lavorano per costruire la giusta struttura e affrontare nel migliore dei modi il massimo campionato dilettantistico. Alla squadra bianco-verde in questi giorni è stata avvicinata con una certa insistenza il nome di Luigi Pavarese. Il dirigente con un passato ad Avellino, Messina e Torino potrebbe fare parte dei quadri bianco-verdi. Nel frattempo si aspetta di capire quale sarà il futuro dell'allenatore Francesco Messina. Il padrone Marco Cucciniello e l'intera dirigenza sperano che il trainer siciliano possa conciliare gli impegni lavorativi con quelli calcistici. Ecco perché non sono stati avviati contatti con altri tecnici. Per quanto riguarda la vicenda a stadio, l'intento è quello di continuare l'avventura al decicco di Pratolaserra. Il sindaco Emanuele Fiero si sarebbe già attivato per mettere a norma l'impianto e far sì che possa essere la casa dei grifoni anche nella prossima stagione calcistica.